Ma sensazioni, guarda, ma anche quelle che erano sinceramente contro non solo Padova, Venezia, l'ultimo mese e mezzo, l'ultimo mese e mezzo ho sempre avuto buone sensazioni, poi purtroppo sai le partite, il campo è un'altra cosa, però se devo pensare a come ci alleniamo, a come questi ragazzi lavorano, a quello che propongo, che l'ho sempre detto, lo fanno con una disponibilità massima, con anche qualità buona in certi momenti, quindi le sensazioni sono buone, sinceramente, però erano così ottime anche sia col Padova che col Venezia, però non deve farci pensare di non fare delle partite ancora così, le possiamo fare e per ottenere risultati dobbiamo mantenere questo tipo di qualità, ma io direi anche di aggressività, questo è un momento in cui ci sta facendo un po' la differenza, il ritmo alto, aggredire, ripartire velocemente, allora quindi anche la condizione fisica in questo momento è importante per come stiamo giocando noi, le sensazioni sono buone, però le partite sono sempre diverse una dall'altra e domani affrontiamo una squadra che, insomma, con i suoi problemi iniziali è un po' tutto, ma si è rimessa in pista alla grande, io ho visto gli ultimi due, hanno perso una partita incredibile a Teramo prima di vincere col Parma, 2-2, hanno avuto l'occasione di fare il 3-2, hanno preso gol, quindi è una squadra viva, una squadra che c'è, una squadra che ha battuto il Parma, quindi comunque, insomma, devi avere qualcosa, sarà una partita difficile, ecco, su quello me l'aspetto, mi aspetto una partita molto bloccata, una partita dove dobbiamo sbagliare poco, poco in fase soprattutto di costruzione, perché loro è una squadra sorniona, una squadra che ti aspetta, riparte molto bene, allora quindi dobbiamo essere bravi subito a non farli ripartire, perché loro con gli esterni, Frediani, De Silvestro soprattutto, se hanno campo alle spalle, ti possono mettere in difficoltà. Saremo su quella falsariga, saremo su quella falsariga, cosa che invece col Venezia volevamo aggredirli alti perché ha grossi palleggiatori, qui invece vogliamo aspettarli un pochino perché loro attaccano la profondità e quindi voglio cercare di creare anch'io, come fanno loro, molta densità in mezzo al campo, avere poche opportunità di campo aperto per loro e quindi cominceremo così, poi vedremo l'andamento della gara, ma la nostra strategia iniziale sarà quella. Sì, guarda, io ero non conoscendo benissimo il gruppo, cioè nel senso adesso sono passati cinque mesi, però ci sono dei momenti in cui quando conosci bene i tuoi ragazzi sai come possono reagire o meno. Adesso non dico che ho in mano la situazione perché non è così, questo vale per tutti, però mi mancava ancora quel pezzo di gestione di squadra dopo due sconfitte del genere come reagivano. Credimi, hanno reagito alla grande in allenamento, sicuramente le prime giornate in allenamento dopo quelle due gare non era facile, ma dopo si sono riprese. È una forza a questi ragazzi di lasciarsi addosso, scorrere tutte le situazioni in un modo incredibile e questo è una nota veramente positiva più che mai, quindi il morale in verità l'hanno sempre avuto alto, pur sapendo che purtroppo sono state due sconfitte pesanti. Però non conoscevo ancora questo aspetto di questi ragazzi, perché non era ancora avvenuto tra virgolette un momento così brutto di risultati, non di prestazioni. E invece vedendoli tutti i giorni in allenamento in quel momento tra virgolette no di risultati ho capito che questa è una squadra che sotto quell'aspetto dell'attenzione, della voglia di fare sempre, di non pensare a cosa è successo prima, ci sarà sempre. E questo, come dicevo prima, è una nota più che positiva perché poi alla fine le partite purtroppo sono sempre diverse, i risultati a volte anche. e se tu ti adegui al risultato, se hai vinto, sei entusiasta, se perdi no, è sempre altalenante e si rispecchia in allenamento. Loro invece, comunque sia, lavorano in un certo modo e allora sono veramente sempre contento, io lo dico anche a loro, è veramente orgoglioso di allenare questo gruppo. Credo, e lo dico sinceramente dopo quello che ti ho detto prima, con convinzione che non sarà così. Nel senso che sono arrivati due momenti sconfitte, sì, squadre importanti, quindi le motivazioni ce le hai già dentro. Però abbiamo, tra virgolette, sbattuto spesso il naso, quindi contro, ma non squadre non blasonate perché è brutto dire, è ancora, secondo me è una squadra importante come è stato il Fano, Maceratese, Tutto. Però è un po' a livello, sai, normale, mediatico che si forma una situazione, vai a Bassano, Eurolex, a Padova, importante, Venezia. Ma loro i ragazzi hanno sempre pensato alla partita una alla volta e l'importanza di ogni gara l'hanno sempre fatta vedere e anzi, se possibile, ancora di più di squadre magari non su in alto in classifica, pensate che sulle più pericolose e domani sarà così. Noi abbiamo già, non pensato, lavorato nel sapere che domani sarà una brutta partita sotto l'aspetto tattico, lo so già, difficile, magari sbagli qualche passaggio perché loro si chiudono, noi siamo una squadra che se a campo siamo una squadra importante e sappiamo che domani non ci sarà tutto questo campo a disposizione e allora dobbiamo veramente fare quel saltino in più che, è logico che la vittoria è sconfitta, fa la differenza, però adesso nella gestione, sapere che loro ci danno poco spazio e noi ce lo dovremmo andare a prendere lo stesso. Ecco, ci manca ancora quel pezzo per essere quella squadra importante, che ormai siamo una buona squadra e non c'è dubbio, però quel pezzo dove se sappiamo di affrontare squadre che ci danno campo siamo bravi. Quando abbiamo visto squadre che sono chiuse abbiamo fatto difficoltà, siccome ultimamente abbiamo fatto anche bene sulla costruzione del gioco, ecco che domani vorrei vedere la controprova di quella squadra che sa fare bene entrambe le cose, sia ripartire velocemente e sia anche dalla costruzione dal basso per crearsi un po' delle situazioni, ma non c'è dubbio che domani l'importanza del duello individuale sarà importante, domani l'importanza degli attaccanti centrocampisti nel vincere il duello, bravi nell'uno contro uno, nel trovarsi spazio, nel procurarsi tante situazioni sarà fondamentale. Domani forse prevedo una partita magari, non lo so, meno corale ma più individuale.